Non lasciare che sia il tuo ultimo sorriso. In una locandina l'immagine spietata dei rischi dell'alcol alla guida. I dati allarmanti più di due morti al mese e quasi tre feriti e tre incidenti al giorno. 891 feriti, 959 incidenti, 28 morti. Dati allarmati riferiti ai soli 365 giorni dal primo giugno del scorso anno al primo giugno 2023. L'area geografica è quella di Napoli e provincia. Una statistica di insicurezza stradale che parla di 2,3 morti al mese, 2,4 ferite al giorno, 2,6 incidenti al giorno. Nello stesso periodo i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno elevato 150 sanzioni al codice della strada per guida e stato di ebrezza. Il conto arriva a 200 considerando le sanzioni per guida sotto effetto di stupefacenti, una media di sanzioni notificate e una patente ritirata ogni due giorni. Arrestati o denunciate 57 persone, 27 persone per omicidio stradale e 30 per lesioni personali stradali gravi o gravissime. È sulla base di questo bilancio inquietante che i carabinieri di Napoli lanciano oggi una nuova campagna di sensibilizzazione intitolata Non lasciare che sia il tuo ultimo sorriso, divertiti responsabilmente. L'obiettivo principale di questa iniziativa è promuovere una maggiore consapevolezza tra i giovani riguardo ai pericoli della guida in stato di ebrezza. Vogliamo che si comprenda l'importanza di fare scelte responsabili quando si tratta di mettersi a volante. Una decisione sbagliata può cambiare drasticamente il corso di una vita e arrecare dolore a famiglie e comunità intere. La campagna dei carabinieri vuole coinvolgere il cittadino a partecipare attivamente all'iniziativa e a diffondere il messaggio sui social media attraverso gli hashtag ultimo sorriso e divertiti responsabilmente. Un messaggio rappresentato con spietatezza in un posto erediato e realizzato dai militari del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli, destinato alla diffusione. Attraverso una combinazione di eventi educativi, campagne sui social media e collaborazioni con le autorità locali, la campagna mira a raggiungere un vasto pubblico e promuovere un cambio di mentalità sulla guida sotto l'effetto dell'alcol. Saranno organizzate conferenze e simulazioni di guida per mostrare gli effetti devastanti dell'alcol sulla capacità di guidare in modo sicuro. La campagna coinvolgerà anche le scuole con interventi educativi dedicati agli studenti al fine di installare fin da giovani l'importanza di comportamenti responsabili e sicuri sulla strada. I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli invitano tutti i cittadini a prendere parte attiva a questa iniziativa, adottando comportamenti responsabili e a non mettere a rischio la propria vita e quella degli altri. La sicurezza stradale è un impegno collettivo e solo attraverso un'azione congiunta possiamo ridurre gli incidenti e preservare la vita.